Ti devo dire una cosa. Che cosa? Mi hanno offerto a rifare un lavoro. Che? Le formiche. Ma questo è un colpo di culo vero. Questa cava. Sai che poi non si torna indietro? Trovatemi la cassaforte. No, no, no. Sabrina, mi chiede. Mi trovo. Mi devi dire qualcosa? Le formiche non devono avere proprietà. E le armi? E le moto? Le armi e le moto. Calma, calma. Che mondo cane non ha sparato. Stai attento, amico tuo. Che ti porta giù. C'è una formica. C'è un assassino. Cassino! Qua non ci dovevamo mettere piede. Siamo formiche, te ne si sono. Palla piano. Che fai adesso? Mi spari? Ciao! Sì! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.